Operatore 13, sei stata già informata di dover attendere ulteriori comunicazioni. Apprezziamo molto il tuo impegno e la tua grande dedizione. Come ti chiami? È 13. Ti sei distratta e hai fallito. Dov'è Monji? Tu vuoi il bambino? Io voglio i tuoi servizi. So bene che tu sei una donna fuori dall'ordinario. Abbiamo cadaveri per tutta Jakarta. Tutto questo casino solo per un ragazzino. Noi siamo assassini, non siamo soccorritori e nemmeno negoziatori. Capito, 13? Io non mi sento soltanto un numero.